Sta per concludersi ufficialmente la stagione 2017-2018 di promozione ed il Serino sta già gettando le basi per il futuro. Come prima operazione c'è la riconferma di O'Premio Carruezzo. Il proposition è O'Premio Carruezzo, un allenatore che sta avendo richieste dalla Serie D all'Eccellenza e anche qualche squadra di Serie C. Quindi solo che lui è affezionato a questa piazza, è amico con il Presidente, è amico con me e allora lui ci terrebbe tanto a proseguire un progetto e a vedere un po' se riusciamo a far decollare una volta per tutte questo Serino. È ovvio che lui è la prima persona che noi abbiamo in mente di confermare, però ci sono tanti però. Deve muoversi da dove è e non è tanto semplice. A mille chilometri di distanza ci deve essere anche un riscontro positivo per lui. Per quanto riguarda il mercato, chi resta nella famiglia Serino? Dipende, perché se il Presidente ha fatto il ripescaggio, che sicuramente come tutti gli anni non ve l'ha accorto, allora dobbiamo rivedere un po' le cose perché abbiamo giocatori che sono talmente importanti che non possono restare in questa categoria. Abbiamo Da Silva, abbiamo Salif, Nordin, che sono sicuramente giocatori di altre prospettive. Non è che possiamo trattenerli solo perché dobbiamo avere anche un po' l'umiltà di far decollare questi ragazzi.